Onorevole Paglia, evitiamo le caricature reciproche. Lei chiede di stabilirlo per legge, non se siamo d'accordo o no. Per legge, stabilire le retribuzioni di società quotate o di società private è una scelta che merita un approfondimento maggiore di un ordine del giorno. Grazie. Onorevole Villarosa, prego. Ho capito, però il Governo, quando gli abbiamo chiesto di cancellare i dividendi, cioè gli utili, che le banche private prendono ogni anno dalla nostra banca centrale italiana, ha detto no. Quindi i soldi alle banche private questo Governo piace darli e continuerà a darli. Diciamo le cose come stanno. Grazie. Scotto, onorevole Scotto, prego. Io apprezzo la risposta del sottosegretario Baretta, soprattutto per la sua sincerità. Stiamo parlando di banche che sono sì quotate in borsa, ma sostenute da risorse pubbliche. E quando lo Stato ci mette i soldi, è giusto che possa anche stabilire un tetto per legge sui guadagni dei manager. Arlotti. Bene. Direi che è chiusa la votazione. La Camera... La votazione sarebbe chiusa, se mi dà retta. È chiusa la votazione. Oh, la Camera respinge. Passiamo al 108, Paglia, parere favorevole. 109, San Nicandro, accolto come raccomandazione, va bene? Presumo di sì, non mi date retta, va bene. 110, Martelli, parere con...